Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale e tv siti. E tutta Italia a rischio zona rossa per Natale e Capodanno e questa la drastica decisione al vaglio del governo dopo le immagini degli assembramenti nei principali centri dello shopping delle città italiane. E il nuovo show di De Luca da Fabio Fazio a che tempo che fa ieri sera il governatore non ha perso occasione per criticare aspramente le decisioni del governo in merito alle zone di criticità per tutta la penisola. Consueto ormai appuntamento con l'emergenza covid nel Vesuviano dove continuano ad aumentare i contagi sia a Torre del Greco che a Castellammare e sempre a Torre del Greco e di nuovo emergenza rifiuti. Mentre la buttola ha annunciato uno sciopero di 24 ore nella giornata di oggi le strade del centro storico sono invase dai rifiuti. Con le nostre telecamere abbiamo ripreso la situazione drammatica delle strade del degrado e chiesto ai cittadini le loro opinioni in merito alla questione. E ora passiamo alla cronaca. Con i controlli della finanza su tutto il territorio napoletano per il rispetto delle norme anticontaggio sono state irrogate 34 sanzioni solo negli ultimi due giorni e sempre la finanza ha sequestrato una fabbrica abusiva in cui venivano prodotti liquori prevalentemente champagne e oli con marchi contraffatti da rivendere nel periodo natalizio e in conclusione la Turris che riesce a strappare un pareggio in casa contro il Teramo. Questo è altro nei nostri servizi. Il governo valuta un irrigidimento delle misure anticontagio nei giorni festivi e prefestivi. L'idea è quella di rendere tutta l'Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio permettendo però un allentamento per i piccoli comuni. Si valuta una deroga che dia a chi abita in paesi sotto i 5.000 abitanti la possibilità di spostarsi entro i 30 chilometri. Le deroghe sugli spostamenti potrebbero interessare così oltre 10 milioni di italiani che vivono in piccoli comuni che sono circa il 69 per cento del totale dei comuni italiani. L'ipotesi è adottare norme omogenee in tutta Italia con un irrigidimento delle disposizioni come annunciato anche dalla Merkel in Germania per evitare la terza ondata. La preoccupazione esplosa dopo le immagini circolata negli ultimi giorni dei vari centri cittadini invasi da persone. Con le riaperture sono tanti i cittadini che ne hanno approfittato per fare shopping, affollando negozi e gallerie, un comportamento che, in realtà, è stato lo stesso governo a favorire per dare uno slancio all'economia e rianimare il commercio. I preoccupanti assembramenti, misti a rigore manifestato da altri paesi europei, potrebbero quindi portare ad un'improvvisa, quanto incoerente, inversione di marcia. Sono ormai lunghi mesi che siamo tutti impegnati, con grandi e piccoli sacrifici, nella battaglia contro il Covid-19, scrive il Premier Giuseppe Conte su Facebook. La nostra comunità nazionale, pur tramite le difficoltà, è riuscita a mostrare un forte spirito di coesione e un grande senso di responsabilità. Sono convinto, continua il Premier, che continueremo a mostrare questa saldezza anche nelle prossime settimane, in occasione delle festività natalizie. Ancora uno show di De Luca a che tempo che fa. Il Presidente della Regione Campania è stato nuovamente invitato per un collegamento nel programma di Fabio Fazio e, ancora una volta, il Governatore ha approfittato dello spazio televisivo per sfoghi, polemiche e battute. De Luca è sortito parlando dei rischi delle festività natalizie, soprattutto se si concede un clima di rilassamento con misure anticontagio blande. Ma dobbiamo dire con grande chiarezza che se vogliamo godere il calore di Natale quest'anno apriremo le porte delle terapie intensive a metà gennaio e le porte dei cimiteri per altri 10.000 decessi per Covid. Questo è il quadro. Parliamo con grande e brutale chiarezza, altrimenti non ci capiamo. La polemica contro le scelte del Governo è iniziata con il duro attacco ai criteri con cui sono stati assegnati i colori alle varie regioni italiane. Io sono fra quelli che non guarda proprio il pannello che voi fate vedere. Quel quadro, dal mio punto di vista, è una grande marchetta. Si pronuncia algoritmo ma significa il marchettificio. Togliamolo di mezzo. Il Governatore ha espresso serie dubbi anche sull'ipotesi di aprire la mobilità fra i piccoli comuni nei giorni festivi. Apriamo la mobilità nei piccoli comuni. Sapete quanti sono i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti in Italia? Sono il 70% dei comuni, 10 milioni di abitanti. Se apriamo la mobilità a 10 milioni di abitanti non ci sarà più nulla da fare perché avremo una ripresa drammatica di contagio a gennaio. Questo è il quadro che abbiamo di fronte. Se il Governo decide di lasciare la mobilità per i comuni sotto i 5.000 abitanti, a mio parere dobbiamo aprire a Palazzo Chigi una sezione di psichiatria democratica perché davvero andiamo al disastro. La polemica maggiore è scoppiata sui recovery fund. De Luca ha tuonato furioso contro le indiscrezioni trapelate sulle possibili divisioni dei fondi europei destinati alla ripresa del Paese. Il Governo non può dire diamo il 34% al sud e il 66% al nord. Le proporzioni devono essere esattamente capovolte. Poi vi sono altri 127 miliardi che riguardano i prestiti e qui ragioniamo. Ma è inimmaginabile che fondi che arrivano per riunificare i Paesi, per ridurre il divario di disoccupazione e di reddito, vengano utilizzati senza privilegiare le aree svantaggiate per le quali sono state destinate quelle risorse. Non sono mancate poi le classiche battutine volte a denigrare i membri del Governo nazionale. Il Presidente del Consiglio ha detto che ai migliori ministri del mondo, con un atto come dire di fine umorismo, io credo che abbiamo tre o quattro ministri di grande valore, il resto francamente mi pare arte povera. A Torre del Greco si riscontra un aumento dei casi di contagio da Covid-19 durante il weekend. Sono 40 nuovi positivi registrati nel fine settimana, di cui uno soggetto al regime ospedaliero. 30 soggetti dichiarati guariti. Mutta dunque il bilancio dei contagi nella città. Sono 481 cittadini positivi, di cui 30 ricoverati, 1766 persone guarite e 53 deceduti. Aumentano i positivi anche nella città di Castellammare di Stabbia. Registrati negli ultimi due giorni 37 nuovi casi di contagio da virus. Sono state dichiarate inoltre solo le tre guarigioni. Il bilancio dei contagiati continua dunque a spaventare la città di Castellammare. Sono 1.557 cittadini attualmente positivi al virus, 1.023 guariti totali dall'inizio della pandemia e 27 deceduti. Dagli ultimi dati forniti dal sindaco di Ercolano Cino Buonaiuto, sono 35 nuovi positivi a fronte di 65 guariti. Si attestano dunque i 536 attuali positivi nella città. Continua a scendere quindi la curva dei contagi ad Ercolano rispetto alla precedente comunicazione del 10 dicembre, quando il numero dei positivi era di 564. Nei giorni del 4 e 10 dicembre si registra un numero di tamponi effettuati ai cittadini di portici pari a 1.189 con un esito di 10 nuovi contagiati e con un numero di guariti di gran lunga è superiore al numero di nuovi positivi. Si consolida quindi il trend di diminuzione dei casi a portici. 158 cittadini attualmente positivi al giorno 12 dicembre, con una percentuale di positivi sulla popolazione residente pari allo 0,29%. E' di nuovo emergenza rifiuti nel centro storico di Torre del Greco. La Butto, l'azienda responsabile della raccolta rifiuti nel comune Corallino, ha infatti annunciato per oggi, 14 dicembre, uno sciopero per 24 ore. Una situazione che ha fatto tornare nuovamente i cumuli di spazzatura nelle vie della città. Sacchetti, scatole e addirittura ingombranti si concentrano lungo i punti di raccolta delle strade cittadine. Non è bastato il comunicato emesso dall'azienda, nel quale si consigliava ai cittadini di non depositare alcun rifiuto nella serata di domenica. Da sottolineare inoltre che la stessa Butto nella giornata di ieri si è occupata di effettuare un servizio di raccolta straordinario, ma ciò non è bastato per evitare lo scenario di queste ore. Le telecamere di TV City hanno raggiunto il centro storico per documentare la situazione, oltre che a raccogliere le considerazioni dei cittadini a riguardo. Come trova la città quest'oggi? In alcune zone vedo pulito, ma in molte altre, dietro il vicoletti, io noto sempre tanta tanta spazzatura. Può darsi che se lo sciopero non si ferma, significa che saremo inondati dall'immondizia. A che pro metterci le mascherine? Forse proprio per non respirare i miasmi? È solo vergognoso, vergognoso. Questi non hanno proprio affetto per la città. Abbiamo un sindaco che dice sempre le stesse cose. L'assessore non si conosce. Scendo proprio dal mio viale a Cesare Battisti ho visto tanta spazzatura davanti al centro D'Occa, giù Cesare Battisti. E quindi è una cosa bruttissima. Già stiamo con questo Covid e quindi è un'emergenza proprio veramente. Anche nei giorni ordinari, quindi quando la raccolta dei rifiuti dovrebbe essere regolare, nota qualche particolare di servizio da parte degli operatori ecologici? No, posso dire che fino a un paio di giorni fa era sempre tutto pulito, veramente ma adesso proprio stamattina sono rimasta proprio uscendo fuori vedendo tutta questa spazzatura che sta in giro, anche nel mercato. E quindi è bruttissima questa cosa, veramente con quello che ci sta in giro si dovrebbe un po' risolvere. La città comunque sta sempre sporca. A prescindere di ditte che adesso ha palto o no, comunque rifiuti non sono mai, sono indifferenziati, non vengono fatte la raccolta giusta nel giorno suo, però contro i propri operatori e diciamo di turbini non ho niente. È contro la loro amministrazione che parlo, perché sono veramente ragazze che lavorano a part time, ragazze che non hanno contratto, non sono fornite di mascherine, non sono fornite di guanti perché certe volte vede dal balcone. Lavorano in situazione un pochettino disumana in questo periodo, poi a prescindere di altro tempo. Se loro fanno sciopero, sono loro interessi, ma deve dare la garanzia comunque alla ditta, non un semplice in un turbino, perché lui comunque svolge il lavoro che viene dato a lui. Se non viene raccolto la spazzatura significa che camion da quella parte non doveva andare, cioè non è stato mandato. La città a margine di leopardi nazionali comunque sta in situazione molto critica. Devono comunque organizzarsi il comune con l'amministrazione di queste ditte di appalto. L'ho trovata sporchissima, veramente. Anche se io sono del comune vicino, però l'ho trovata molto sporca. Questo posso dire. Gli altri giorni era di meno, ma proprio oggi non si può camminare. È vergognoso, specialmente nelle feste dovrebbe essere più pulita. Stavattina, come sempre, sinceramente la trovo sporca, perché comunque io penso un po' pure da parte dell'amministrazione, un po' da parte del cittadino e siamo in questa situazione appunto di degrado. Ci sono delle zone di Torre del Greco dove la situazione è molto più accentuata e dove si vedono rifiuti ammassati proprio, ma non solo rifiuti carte via di seguito, ma addirittura materassi, cose del genere, dove siamo in una situazione dove il cittadino è ancora incivile, non ha imparato ancora a rispettare l'ambiente, non ha imparato a rispettare se stesso e gli altri. La Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana il dispositivo dei controlli, volti a verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid. In totale, tra venerdì e domenica scorsi, sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 862 persone e 141 attività commerciali, 34 alle sanzioni complessive. In particolare nel capoluogo il secondo nucleo operativo metropolitano ha denunciato due cittadini di origine nigeriana, sequestrando nel quartiere Mercato 5.000 capi di abbigliamento contraffatti di note griff, oltre a macchine da cucire, banchi da lavoro, stampanti e presse a caldo. Sempre a Napoli, la compagnia di Torre Annunziata ha coaduato il commissariato dei cumani, fornendo la necessaria cornice di sicurezza nello svolgimento dei controlli tese ad evitare il formarsi di assembramenti. Al termine sono stati sanzionati tre soggetti in strada, oltre all'orario consentito, e due bar mentre vendevano bevande pronte per l'immediato consumo all'esterno del locale. Il gruppo pronto impiego, tra i quartieri Vomero, Mergellina e Mercato, ha sanzionato diversi cittadini sprovvisti di mascherina o sorpresi in un comune diverso da quello di residenza, senza comprovate esigenze. Così come la stazione navale di Napoli, che, nelle acque antistanti l'isola Capri, ha sanzionato un cittadino sorpreso in un comune diverso da quello di residenza, senza valide motivazioni. Nell'area metropolitana, la compagnia di Ottaviano ha sequestrato, presso un ingrosso di abbigliamento di San Giuseppe Vesuviano, oltre 160.000 tra maschere facciali con marchi contraffatti di note griff e prive dei requisiti minimi di sicurezza. La compagnia di Castellammare di Stabbia, a seguito di una segnalazione, ha constatato un assembramento di avventuri all'interno di un internet point, intimando nella chiusura provvisoria per cinque giorni. La tenenza di Massa Lubrense ha sanzionato due giovani sorpresi in strada, oltre l'orario consentito. Uno di loro è stato trovato anche in possesso di marijuana. Inoltre, tra i controlli anti-Covid sono emesse anche altre situazioni illecite di tipo economico finanziario, come nel caso della compagnia di Casanuovo di Napoli, che nel quartiere Barra ha sequestrato quasi 40.000 litri di olio e gasolo di contrabbando, tre automezzi, un'elettropompa e due sempladoi. Denunciati tre responsabili. Infine, il secondo gruppo ha individuato in un piazzale dell'area portuale utilizzato per la sosta e movimentazione di mezzi pesanti, 20 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non denunciando il rappresentante legale di una società di Catania, per gestione di rifiuti non autorizzata. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato a San Giuseppe Vesuviano una fabbrica clandestina utilizzata per il confezionamento di bevande. Individuati quasi 1.400 litri tra champagne, olio ed alcol etilico, privi delle indicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità alimentare e contraffatti. In particolare, gli specialisti hanno scoperto un opificio perfettamente allestito per l'etichettatura di bottiglie contenenti falso e champagne a marchio Moët Chandon, nel seminterrato di un edificio residenziale. Sequestrate 774 bottiglie di champagne, 804 di olio sapio e di alcol etilico delle distillerie La Sorgente e Fiume, nonché 129.400 accessori per il confezionamento fra tappi, etichette, contenitori in cartone, capsule copri tappi in alluminio con loghi e falsi marchi Moët Chandon, olio sapio, olio san colombano e made in Italy. Sequestrate anche 1.100 contrassegni di Stato per bevande alcoliche con il logo contraffatto della Repubblica Italiana e denunciati i titolari una 55enne e un 48enne originari di Sarno per contraffazione e ricettazione. Sei mesi sul mercato i prodotti avrebbero consentito un guadagno di oltre 120.000 euro. La Turris torna a far punti in casa grazie al pareggio 1-1 contro il Termo a Liguri. La squadra di Mister Fabiano si presenta in campo con Signorelli è lungo dall'inizio, ma sono gli ospiti a creare le migliori occasioni del primo tempo. Già nei minuti iniziali, prima Ferreira che da fuori costringe a bagnale a deviare in angolo, poi Bobbaci su punizione sfiora la traversa. Gli abruzziesi lasciano pochi spazi, l'unica occasione per i padroni di casa viene sprecata malamente da Pandolfi. La svolta arriva al ventesimo quando Santoro entra in aria, supera la difesa e insacca con un diagonale che non lascia scampo al portiere Corallino. Dopo l'intervallo la Turris appare più propositiva e trova il gol con Longo, ma l'attaccante era in fuorigioco. Il pareggio però arriva a metà di presa, lancio lungo di Signorelli, sponda di Pandolfi che trova Giannone, che a tu per tu con Lewandowski non sbaglia. I Terramani a questo punto si riversano in attacco, ma a bagnale è super sul titolo venenoso di Mungo. Finisce in parità e per la Turris è un ottimo punto guadagnato in ottica salvezza. I Corallini ora mantengono 9 punti di vantaggio sulla zona play-out, prima della difficile trasferta sul campo della lanciatissima Ternana. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolativusiti.it o al numero di telefono 340 65 61 484. E con questo è veramente tutto, io vi saluto e vi do l'appuntamento a domani.